No, così. No, bene, allora ci avvicendiamo a... Sono molto felice di essere qui con tutte e tutti voi e cerchiamo adesso di uccidere i bambini e il bambino. Allora, da cosa nasce il mio interesse? Discuterò di alcuni dei temi, tra l'altro sconvolgendo un po' il piano che mi ero dato, dei temi che sono emersi da chi mi ha preceduto e tenendo conto anche del mio posizionamento come maschio, omosessuale, bianco, strutturato all'università, quindi con un monumento che è basso, però c'è ed è irregolare, abile, in qualche modo nonostante i menischi che stanno cedendo, e chiaramente rispetto anche ai miei temi di ricerca, perché ho avuto modo di evidenziare l'intersezione di questi tratti identitari all'interno di un'etnografia sul sex work maschile e omosessuale. Quindi cerco di ripensare i corpi e i generi all'interno del discorso sociologico, che è un altro dei miei temi, e di far entrare nel campo, perché in termini proprio alla Bourdieu in qualche modo sto cercando di capire come i discorsi sull'omosessualità e gli agenti omosessuali fanno ingresso nel campo della sessualità, ma anche nel campo accademico, con tutto il loro portato di diserzione oppure di normalizzazione, perché un po' ricordando Leo Bersani, in quanto omosessuali, bianchi e borghesi, siamo troppo simili ai nostri oppressori, quindi non potremo mai essere oppressi pienamente. Quindi lo ricordiamo sempre e ce ne scusiamo. Allora, in qualche modo, io penso che la normalizzazione dell'omosessualità, un po' come hanno detto Tatiana e Ottavio, ha un rapporto diretto con l'irregimentazione dell'eterosessualità. L'abbiamo ascoltato anche rispetto alla relazione del professor Messerschmitt. E quindi, in qualche modo, credo che analizzare le differenze intracategoriali dell'omosessualità ci porta anche ad evidenziare alcuni caratteri di complicità e di misconoscimento, in primo luogo riprodotti dalle persone omosessuali. Quindi, una delle domande che possiamo porci è possiamo continuare ad opporci alla maschilità etero-patriarcale, illudendoci in realtà che non sia proprio questa forza a definirci come maschi, maschi altri, ma comunque come maschi, un certo tipo di maschilità. Siamo sicuri che poi gli omosessuali sono sempre coinvolti in forme di diserzione dal maschile normativo, secondo quanto ci ha detto Tatiana, a quanto pare no. Quindi la disidentificazione maschile e omosessuale dalle maschilità tradizionali per me è illusoria, anche perché noi cerchiamo sempre di fare in modo, di porci in modo da non spaventare più le persone, riprendendo un'espressione dall'estratto di un'intervista di Tatiana. Quindi assistiamo di fatto ad alcuni processi, anche qui in Italia, su cui tornerò alla fine, di deomosessualizzazione, o se preferite, come dice Chris Ingram, di eterosessualizzazione. Comunque uno degli elementi principali è la depoliticizzazione, la privatizzazione della cultura movimentistica LGBT. Questo è il principale elemento che viene fuori. Ascoltando anche, quindi, la depoliticizzazione, la privatizzazione del movimento LGBT porta sicuramente alla costruzione di standard che cercano di espellere tutte le forme di corporità terroristica, quindi tutte le forme eccedenti o eccessive, a partire non soltanto dal musulmano, l'arabo potenzialmente stupratore delle nostre donne, ma anche della transgender, dell'anziano LGBT, della sex worker o del sex worker, della ragazza madre. Una maschilità che abbiamo visto, sentendo proprio Messerschmitt, in realtà che si frantuma in maschilità egemoni multiple, che forse hanno, mi permetto di commentare quanto ho ascoltato, hanno anche la possibilità di darsi un tempo e di essere istantanei, intempestive, perché sono normative e rimangono normative, oltre che egemoni. La maschilità omosessuale, dunque, crea delle nuove alleanze. Secondo me non è un caso che, nella contemporaneità neoliberista, anche l'eterosessualità giochi e possa scimmiottare l'omosessualità. C'è un bellissimo testo, uscito da poco, nel 2015, di Jane Ward, si chiama Not Gay, Sex Between Straight White Men, dove osserviamo, per esempio, come l'eterosessualità possa scimmiottare l'omosessualità, però invocando sempre l'eccezione e l'accidente, come se le identità pure potessero prendersi gioco e utilizzare iperbolicamente alcune caratteristiche dell'omosessualità. Quindi, noi maschi omosessuali non possiamo illudere la socializzazione in cui siamo coinvolti. Sviluppiamo un abitus, un abitus sessuale di genere, da cui deriviamo rendite di posizionamento e di prossimità rispetto a campi sessuali specifici. È in questo caso che l'ortopedia di genere diventa la moneta, la valuta che scambiamo tra di noi e tra le diverse maschilità. Del resto, anche gli omosessuali, secondo delle analisi psicosociali, sto riferendo per esempio i lavori di Harry o anche di Jod Tawaditep, scusate per la pronuncia, sarà di origine straniere, non riesco a pronunciarlo bene, si è notato per esempio come molti uomini omosessuali già durante l'infanzia abbiano per esempio espresso delle caratteristiche gender non conforming che si sono normalizzate chiaramente per via delle pressioni dei propri pari, delle famiglie, delle diverse istituzioni educative. Quindi noi impariamo a defemminilizzarci sin dall'infanzia. A meno che poi, un po' come gli etero puri, non scherziamo a prendere in giro o a parodiare la femminilità, ma credo che anche in quel caso potremmo essere accusati di un certo tipo di collusione. La checofobia si esprime in vari luoghi virtuali o reali, dal pink marketing alle chat. In qualche modo vediamo una sorta di riarticolazione. Per utilizzare per esempio il linguaggio tanto caro ad E a Messerschmitt, vediamo come ci sia una convergenza tra valori sotterranei, dove la società convenzionale ha in comune con la subcultura omosessuale proprio il riferimento al macismo. Allora è molto interessante capire in che modo si avvicinino questi domini, questi terreni, cercando anche di capire come omosessuali compensati, che abbiamo bisogno di farci perdonare tanto da tutti, come abbiamo visto dai vari estratti di intervista, continuiamo ad essere costituiti sui principi normativi e non sarebbe male per esempio rispolverare il nostro Goffman, che per esempio in stigma è il più queer dei queer, dove dice per esempio che lo stigmatizzato e lo stigmatizzabile considerano costantemente l'allineamento normativo. I normali tratteranno il suo stigma come di poco conto. L'essere considerati normali costruisce una grossa ricompensa per tutti. Ed è un po' questo l'elemento che in qualche modo ci fa capire come la costruzione di un polo maschile per caratteristiche per esempio etno-raziali, di età, di abilità fisica o di classe sociale diventi l'oggetto del desiderio della nuova maschilità, anche a partire da quegli contesti marginali, per esempio i luoghi di prostituzione, dove il non bianco di classi sociali subalterne viene riprodotto come soggetto erotizzato. Erotizzato perché gli omosessuali hanno capacità di acquisto e lo possono acquistare, ecco perché è valorizzato. Quindi in qualche modo i gay stanno diventando, lo affermo con convinzione, i nuovi custodi e rappresentanti della maschilità. Con una serie di modelli di consumo per esempio che riproducono l'etero patriarcato, diamo un'occhiata per esempio alle nostre app come Grindr o Planet Romio, dove leggiamo per esempio il modo in cui simbolicamente le mascherità gay si autoriproducono in termini eteronormativi. Vi leggo alcune delle ricerche condotte da me al momento su un lavoro di analisi di big data con dei colleghi palermitani, ma anche sulle riflessioni fatte da Marco Bacio e da tanti altri studiosi più o meno giovani che fanno parte di quella che io chiamo la diaspora degli studiosi della sessualità italiana, perché sono un po' distribuiti, come vedete, da Tatiana in poi Calogero, Giametta, all'estero, è come se dovessimo epurare la purezza nazionale da alcuni soggetti strani che stanno qua attorno. Grindr. No a checche, no a femmine, no a isteriche, no a grassi, no a pelosi, no a vecchi, maschio per maschio, M per M, maschio cerca maschio, maschile per maschile. Una promessa infranta della sessualità liberata, da cui in realtà non ci siamo mai emancipati del tutto, che finisce per occultare il razzismo, l'integrismo fisico, la discriminazione verso i non conformi, anziani e transgender, in primo luogo. Un po' come se avessimo nel buio delle nostre saune o dei nostri luoghi di cruising, che in italiano si dicono con un falso francesismo, si chiamano con un falso francesismo battuage, come se avessimo lavorato piuttosto su una autoallineazione razionalizzata, non ci siamo confrontati come omosessuali con le nostre emozioni. Quindi rischiamo di appropriarci della norma e di ri-idealizzarla. Non voglio qua citare la Butler, che ci porterebbe esso un po' lontano, ma ci ricostituiamo citando questa norma. Quindi possiamo immaginare anche una rielaborazione all'italiana di un concetto sviluppato da Lisa Duggan, Diane Richardson, Alexandra Chasing, che è quello di omonormatività, in cui assistiamo, nel caso dell'omonormatività, alla depoliticizzazione delle istanze gay, alla privatizzazione neoliberista della sessualità, in cui una maggiore tolleranza dei contesti si coniuga con un cambiamento dei modelli di maschilità, sino a includere la diversità come imperativo economico. Non scordiamoci, per esempio, delle politiche da parte utilizzate dalle grandi multinazionali relative al diversity management, che è un nuovo modo per ancorare il discorso sulla normalizzazione. Il gay diventa consumatore per essere legittimato, aderendo ai valori dell'intimità domestica, abbiamo visto, della coppia monogamica, o come dimostrato brillantemente da David Bell e John Binney, dalla ridefinizione di pubblico e privato, dalla nuova responsabilità e autonomia individuale, da una libertà di scelta, come afferma in maniera molto ironica Rebucini, da nuove capacità e libertà di acquisto. Dal soggetto pericoloso, disgustoso e immorale, il gay maschio è depositario di dignità, è ripulito con l'unione civile, con le comparsate in tv o con personaggi gay in prima serata, nel palinsesto italiano, che riportano l'affettività al sito di consumo e di proprietà privata di nuove famiglie. Io vengo dal sud, dalla Sicilia, in cui il presidente della regione è dichiaratamente omosessuale, Crocetta. E Crocetta un po' sta alla frocitudine come Obama stava alla negritudine, quindi è un po' questo paradosso. Per contrastare le destre, inoltre, i movimenti cattolici e reazionari, il movimento LGBT ha fatto un errore, secondo me. LGBT poi è un po' troppo, forse LG, perché LGBT scompare sempre, solitamente. Tratta razza, classe, nazionalità e sessualità come cultural issues, depoliticizzandole, quindi negando e deludendo del tutto la dimensione politica. Del resto, secondo me, rimane ancora valido quanto Gay Robin diceva in Thinking Sex. Vi ricordate? La stratificazione sessuale che in qualche modo vede alcuni individui al vertice, a questo vertice che li ricompensa, per esempio, con una certificazione di salute mentale, di rispettabilità, di legalità, di mobilità sociale e fisica, di sostegno istituzionale e di benefici materiali. Stiamo costruendo dei nuovi confini, sebbene all'italiana, dove si costruisce l'altro, il nemico della nazione, l'arabo, il musulmano, il terrorista, come soggetto incivile, da civilizzare. Quindi l'omofobia dei musulmani mette a rischio la compattezza della nazione, anche di quella italiana. Altre istanze LGBT liberatrici si contrappongono alla maschilità musulmana, che viene considerata repressa, ma insieme eccessiva, perversa e omofoba, virile e castrata. Questa è può, chiaramente. Sia che vengano considerati come agenti, quindi come stupratoi delle nostre donne, o omofobi, o come vittime, i minori non accompagnati che vengono molestati alla stazione termini da pedofili, da cui, chiaramente, il movimento LGBT si tira indietro. Quindi non va più neanche il modello posolignano del Marchettaro. È cambiato anche questo. Quindi, ricordando alcuni elementi, mi dispiace per i nostri ospiti internazionali, a loro diranno ben poco, però c'è da notare come fanno riflettere Rebucini, ma anche De Vivo e Dufurne, parlavamo prima con Luca, Colpani e Abed, immagino anche Carnassale e Giametta domani, come ci siano questi elementi interculturali che costruiscano anche l'idea omonazionalista all'italiana. Vladimir Luxuria che incontra Francesca Pascale, insomma la fidanzata di Berlusconi, da cui vengono fuori elementi relativi a una discussione dell'omofobia e della misoginia dell'immigrato come predatore sessuale. Paola Conce a causa Pound nel 2009, nonostante quello che tu possa pensare di questo incontro, però c'è un comunicato di causa Pound dove, per esempio, sostengono che l'omofobia metta a rischio, sto citando letteralmente, la convivenza civile, sì alle coppie di fatto se di buon gusto, fedeltà e civiltà, integrazione all'interno di una visione organica dello Stato-Nazione. Il culmine, per esempio, è con la campagna Europride del 2013. Cita ancora il motto della campagna, civiltà prodotto italiano, l'Italia unita contro l'omofobia. Quindi forse hanno ragione Colpani e Abed quando parlano di un omonazionalismo europeo utilizzato, riterritorializzato dal movimento LGBT italiano per criticare le politiche reazionarie e cattoliche. Ma questa è una storia vecchia, è un po' il buonismo all'italiana, gli italiani brava gente che occupavano i Balcani nel 1943, l'Etiopia, oppure che hanno sostenuto fino a poco tempo fa il berlusconismo. Quindi questo italiano buonario. Quindi credo che ritornare ad una riflessione intracategoriale ci possa permettere di considerare l'importanza di questi temi, soprattutto in contesti in cui si contrappongono un costruzionismo neutralizzante e nuove istanze politiche neofondamentaliste e essenzialiste. Grazie. Allora, io pubblicamente dichiaro tutta la mia vicinanza ai traduttori e alle traduttrici che hanno avuto il compito di tradurre questo intervento molto challenging. Allora, cosa vuoi chiedere a Cirrus Rinaldi che si possa chiedere pubblicamente? Domande, prego. Chissà come l'hanno tradotto, mi fido assolutamente. Si è bravissimo, si è bravissimo. Io ho una domanda, ho tante domande. Microphone, please. Allora, intanto grazie veramente per questa discussione stimolante. Cosa molto interessante è quando hai parlato del soggetto bianco all'interno della tua etnografia, immagino con i sex workers tra Napoli e Palermo. Hai parlato subito del fatto che il soggetto non bianco si è erotizzato attraverso il potere d'acquisto dell'omosessuale. Mi piace tanto questo passaggio veloce che fai. Mi piacerebbe se ci potessi illuminare ancora un po' di più su questo passaggio. Grazie. Grazie. Grazie.